A me mi piegneva il cuore di vedere Cesare trattato così. Ho aspettato che se andava a sto circo orfei e mi so fatto coraggio. Che poi alla fine gli ho detto solo... Oh, cioè, ti posso parlare un attimo? Dimmi, ma già te lo dico. Se mi devi ringraziare a parte la sera non serve. Se mi devi attaccare la pippa serve pure di meno. Non te devo attaccare la pippa, ma lo capisci che sta a fare una cazzata? Che è come se ti hanno messo la mano in culo e ti fanno parlare come un pupazzo di un ventriloco. No, in verità questo avrei detto se non ci avessi un braccio che non so quanta cassa toracica mia. Quindi ho provato a prenderla più larga e arrivacce tipo con la maglieutica. Allora, io lo so che tu sei in buona fede, ma loro sono cattivi. Tu, povero, non lo sai perché per vent'anni sei stato fuori dal mondo. Però questa gente... Ma che mi stai a trattare come indeficiente? Intanto questi sono l'unico che mi sono stati a sentire da quando sono tornato. Ho capito, ma te stanno appresso perché gli servi pei cazzi loro. Eh certo, invece io devo dar retto a te. Che mi vieni a far pianto che lavori troppo. Oppure a quell'altra strozza che manco ho trovato tempo per venirmi a salutare. Cioè, io lo so, però... Ma che sai? Ma che cazzo sai te? Se fai sordi a raccontare la vita tua con tutti sti deficienti che ti applaudo. Ma che ne sai che vuol dire quando non ti sei in culo a nessuno? Quando sei solo un ex tossico con la gente che manco si ricorda chi cazzo sei? Un cazzo di fantasma in un quartiere di merda dimenticato da Dio sei? Ma che cazzo ne sai di sta merda a te? Ma che cazzo c'entrano sti trenta poracci con la vita di merda che fanno qua? A me non me ne frega un cazzo di sti trenta poracci. Io ce l'ho con tutti l'altri, con lo stato che li mantiene, che gli dai sordi, gli dà la casa. Mentre a me non mi ha mai dato un cazzo. Ma che gli dà? Ma non lo vedi che t'hanno riempito la testa di sti strunciate? Oh, te ne devi andare, ma hai rotto il cazzo. Senti, io so che tu non sei così. Ricominciamo un attimo dalla maglia. Vattene porco tuo! Quanto a fare a Dio, l'ammazzo! Onesto, forse quando erano zombie che se faceva le pere ancora me la potevo gioca. Ma mo così mi ammucchiava con una mano. Diciamo che in generico spirito di autoconservazione mi ha convinto che la discussione era conclusa. Eh, bravo, vattene, va, levate dal cazzo. Mi devi affare la morale, mi devi affare sta merda.